buonasera a tutti ragazzi siamo qua su disonored come potete vedere è un nuovissimo appuntamento una nuova serie e penso di farla tutta andiamo subito a guardare le opzioni cos'è che c'è che troviamo è proprio tutto nuovo per me difficoltà dire normale ok non so neanche non so proprio niente di questo gioco non ho neanche visto un video davano gratis nel xbox live gold allora ho detto ciò che proviamo ho scaricato e boh lo voglio provare con voi facendo una serie se se mi piace allora iniziamo il normale luminosità mettiamo un attimo a posto vediamo sperando che sia carino almeno facciamo anche un'altra serie dopo dark soul direi di fare anche questa sempre se mi piace sia divertente se vedremo ok luminosità a posto creiamo nuova partita bene da un old tower attacco nemico sbilanciato a terra per effettuare attacco letale wow ah ma mi sa che è di tutto furtivo ritorno a casa vai wow emily ed io conteremo i giorni fino al tuo ritorno fai in fretta e torna con buone notizie ok quindi noi presuppongosi che siamo il corpo fiume warhammer per guardarti intorno ok giriamo un po' la visuale guardiamo dobbiamo riferire delle novità all'imperatrice forse stiamo vivendo tempi strani allontanare la guardia del corpo dell'imperatrice per un paio di mesi questo è strano era importante chissà come mai dicono che ci vuole aiuto per la peste vedremo che paura andare con quella navizzola qua sembra non è non sembra molto stabile ok dovremmo essere arrivati saliamo ok wow stop dai che andiamo all'imperatrice dai ci siamo ok posso usarlo non fai rapporto all'imperatrice incontro l'imperatrice nel gazebo ok noi seguiamo lui ok sto provando un po' i tasti così si salta manovella perché no ok penso di non so che cosa ho fatto ben tornato non so cosa che ho girato con quella manovella lì parliamo con l'ingegnere onore tutto mio amico grazie facciamo un girettino qua usciamo il comandante ufficiale della milizia ci spiega anche lui che c'è la peste che c'è la peste e c'è un po' i navi qua è tutto chiuso facciamo il giro lo stesso andiamo ok possiamo uscire direi usciamo fuori signore anche lei down wall tower ehi ciao bambina oh che carina mi da anche il bacino dai giochiamo va bene mi fa giocare davvero nascondino va bene direi proprio e va bene andiamo facoltativo nascondino incontra Emily sotto il ponte sotto il ponte seguiamola arrivo arrivo Emily già mi stai simpatico obiettivo aggiornato ok quindi io mi nascondo furtività primi di proiettare mortalità furtiva quindi stare a riparare mentre rompere il contatto visivo con i nemici ok usa l'ambiente per nascondi va bene quindi mi nascondo già conta qua dietro vai giù b siamo in furtiva no cazzo giù mi sa qua porca merda ho sbagliato ho sbagliato va bene signorina va bene ancora una volta ok e ho sbagliato non so i tasti ragazzi è veramente nuovo per me non so proprio i tasti mi sono messo a saltare come un pollo allora quindi così sono fermo in modalità furtiva se schiaccio l'A invece si ah perché io prima ho sbagliato l'A è scavalcato io schiaccio B e sto dietro il cassone buona in teoria così dovremmo essere a posto vediamo sporgersi dagli angoli ok proviamo ah ok ok dov'è lei eccola l'ho vista ok non mi trova ah grande ho vinto facile corri corri arrivo ti seguo accelera un po' il passo però dai Emily portami dove vuoi che ti seguirò bentornato lord protettore cos'è direi che ci assomiglia ovunque tu sia stato gli hanno fatto girare tutte le isole in cerca di aiuto tempo sprecato il mio elisir può liberare la città dalla peste ora state fermo un momento alto sacerdote Campbell secondo me il quadro non somiglia a Campbell grande Emily però secondo me invece uguale ok dove siamo ah eccola lì l'imperatrice sono persone malate non dei criminali vostra maestà ne abbiamo già parlato sono sono miei sudditi se sarà possibile li salveremo dalla peste tutti quanti molto bene non intendo discutere grande imperatrice mamma Corvo è tornato grazie cara lasciateci soli come volete vostra maestà ola due giorni d'anticipo continui a sorprenderci come sempre imperatrice jashmin che notizie mi porti che notizie tipo il consiglio e la lettera ok dai obiettivo raggiunto fai rapporto all'imperatrice bene però che un'altra città avesse già subito il contagio e conoscesse una cura è una notizia pessima non possiamo fare nulla pessima madonna ha buttato giù il foglio hanno intenzione di isolarci aspetteranno che la peste trasformi la città in un'altra città guastarmi tutto bene mamma sembri triste sì non preoccuparti tesoro la mamma sta bene ma dove sono le guardie mammina chi le allontanate mamma guarda che stanno facendo sul tetto cosa vai mi lì vieni qui oh madonna che cazzo è che cazzo è oh oh chi sono combattimento arretti prima destra l'etti sinistra oh madonna aiuto non so come si fa ok cosa ho fatto non lo so bloccare vai oh madonna non sono capace bloccato spara bam morto ok ci siamo vai spara ok bene ce l'abbiamo fatta se tu non fossi stato qui prego prego ci sono sempre che cazzo è ma che cazzo è sta magia non posso muovermi no non ci credo madonna mi hanno mattato l'imperatrice no la vedrai eh ah quindi adesso mi darà la colpa a me magari corvo porca troia vai in pezzi trova trova Emily proteggila tu puoi farlo non ci credo cosa fare promettila corvo oh madonna andaccia morto ecco bastardi ecco dalla colpa a me che cosa hai fatto a Lady Emily traditore la sua guardia del corpo io niente ho fatto assurdo sarai giustiziato per questo corvo prendetelo ma no mi giustizia no porca troia che botta Disono a Red wow carino carino diciamo che era il trailer quello lì per forza sarà il prologo prigione di Cold Ridge salva spesso la tua partita bene vai senza onore continuiamo vai vai prigione di Cold Ridge or the short provide bastardi mi ha legato ahhh per il momento basta fuori diamogli un po' di tempo per pensarci corvo l'imperatrice è morta sua figlia Emily è tenuta nascosta e nessuno saprà mai la verità sei stato sfortunato domani ti giustizieremo ma per una buona causa a questa nazione serve un'autorità forte che guidi i deboli e qui entriamo in gioco noi credimi non c'è niente di personale anche se hai quasi mandato a monte tu invece ha funzionato eri nel posto sbagliato al momento giusto che bastardi e qualcuno doveva prendersi la colpa addio corvo guardie bastardo dove mi portano in cella bene andiamo bello schifo eh direi grazie anche io ce li ho gli amici e se riuscirò a vendicarmi fare una brutta fine faranno ciao mangia un po' di pane lettera di un amico lettera anonima in questo momento la nostra identità di risoluzione sappi solo che confidiamo in te questa è la chiave della traccella ottimo una volta prendi la bomba e piazza sulla porta esterna buona fortuna penalti ci servi vivo in salute bene raccogli la chiave l'ho presa quindi esploriamo comunque la cella nuovo obiettivo trovo l'esplosivo prendi un armi non c'è niente in questa uh carina l'uscita ok direi che dopo oh cos'è bevi bevi bello non c'è niente qua è una finestrella ah e possiamo andare dire apri apri hai usato la chiave della cella di corvo ok suppongo che dobbiamo prendere un'arma eccola qua monete che cazzo sono raccogli prendi tutto ci sono dei rumori strani chiave del corridoio non ce l'abbiamo come mai l'esecuzione suppongo che dobbiamo far fuori questi io dovrei essere eliminazioni non letali quando impugni ah ok sono due due eliminazioni ok si tratta di corpo quello che ha ucciso l'impatrice ha rapito sua figlia emily e se io lo sgozzo non mi vedo quei due lì davanti scusa ho provato come fanno a non scorgersi vabbè morto lo tiriamo su e lo lasciamo qua fuori ok attenzione l'ala di isolamento è incendetta alle squadre di manutenzione che non siano scortate da un ufficiale della milizia attraversamento allora andiamo a prendere questo qua andiamo vediamo se riesco ok questo invece l'ho sgottato con l'altro tasto quindi uno te lo saccheggio tasto ah ok gli ho rubato ah vaffanculo mi hanno beccato a te pareva parati parati ah uccidi bravo vai vai mazza cos'è madonna dov'è 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 che bug ok qua ci siamo torniamo in posizione ste alt accesso e non ho letto qua c'è qualcosa a girare c'erano i topi mamma mia siamo in peste pura in peste pura qua allora vediamo direi anche che possiamo raccogliamo una pistola wow raccogliamo non so cos'era elizir ricostituente vero ricostituente guardiamo un attimo pistola proiettile ok ho solo la pistola con i proiettili standard lo possiamo mettere di lì ok qua ci sono altre armi no non c'è più niente qua c'è l'uscita c'è la gabbia eh eh no proviamo a saltare su proviamo a saltare su ragazzi vediamo se ci c'è qualcosa vada vai proviamo vediamo se va intanto ok su ci arriva bah io direi anche che possiamo salutarci qua come primo episodio non è male cosa dite dai alla prossima ragazzi vi saluto ciao